In sede di vigilia la Palacanestro Trapani ha presentato la nuova maglia della stagione sportiva che richiama al corallo simbolo di compattezza e unione. E' proprio con una prestazione del collettivo che la 2B Control Trapani ieri all'ora di pranzo ha sconfitto l'Assigieco-Piacenza con il punteggio finale di 80-84. Una gara vinta da Granata nonostante gli ostacoli. La formazione trapanese, già priva di spizzichini, Adeola e Miller, ha perso a gara in corso anche il proprio americano, la Marshall Corbett. La guardia, ritenuto tra i migliori giocatori della Serie A2, nel terzo quarto ha riportato una problematica alla caviglia che l'ha messo fuori dai giochi per il prosieguo della partita. E' nei momenti di difficoltà che la Palacanestro Trapani ha mostrato unione. I senior Palermo e Renzi hanno giocato da leader. Mollura ha deciso l'incontro con l'ultima azione, catturando il rimbalzo offensivo decisivo per i tiri liberi i finali che hanno portato la Palacanestro Trapani sul più quattro. E poi i giovani, fulcro degli investimenti negli anni della società Granata, che con spensieratezza hanno giocato minuti importanti durante la gara. Un diciottenne, infatti, è stato quasi sempre schierato in campo per tutto l'arco del match. E poi Erkma, una prova in colore per larghi tratti della partita, per poi esaltarsi nei minuti finali di gara, quando Palermo è uscito dall'incontro per cinque falli. Quella di ieri è stata la prima vittoria stagionale per la Palacanestro Trapani, così analizzata da coach Daniele Parente. Devo fare i complimenti ai miei giocatori, perché sono andati oltre qualsiasi ostacolo che purtroppo si sono aggiunti anche durante la partita. La mia preoccupazione non è tanto la partita di oggi, ma è quella di mercoledì, perché molto probabilmente non riusciremo neanche a essere quelli che eravamo oggi. Devo dire bravi, perché hanno fatto esattamente quello che avevamo preparato. Distratti, secondo me, i primi due quarti, quando avevamo preso un po' l'inerzia, ma questo è un po' il trend anche del precampionato, è quello che succede in allenamento, che ovviamente poi giocando con un avversario di questo livello, 30 secondi e riprenderemo un break di 8 a 0, quando ci abbiamo messo 17 minuti per costruirlo. Terzo e quarto quarto, in spogliatoio abbiamo parlato, ci siamo detti che dovevamo rimanere attaccati alla partita, qualsiasi cosa fosse successa, e cercare di provarla a vincere alla fine. Questo è successo, mi piacerebbe vedere più faccia tosta dai ragazzini, perché giocano impauriti, e so invece che possono giocare molto con più impeto e mettere in difficoltà chiunque. Bravi ai senior che l'hanno tenuto e li hanno protetti in alcuni frangenti, ci portiamo a casa questa vittoria che per noi è fondamentale.